apriamo sui cazzi e pacchi, rimanga io, tra la cichia, basta, apriamo il pacco via, cartolina di ghioccian, quante ne abbiamo di queste, un miliardo e mezzo a casa? va, è tutta una merda, allora un pacchetto, un altro pacchetto, è uno bello grosso villain saga straordinario, torfino, bellissimo, guardate qua, sta pure sobbubu, sobbubu guardate, guardate sommobuda, che cosa ha fatto sommobuda, io gli ho creato un meme e giustamente lui se ne approfitta e lo utilizza, guardate, guardate, ma tanto lo sappiamo già qua su caverna di platone twitch, quanti meme sono stati creati e sono stati ripetuti da tutti gli streamer di twitch, tutti, non ce ne sta uno che non ci ha rubato qualcosa, allora lo vedete che noi qua siamo i più forti, vedete che siamo i migliori, siamo la fabbrica dei meme, va bene così, a noi ci sta bene così, e ci andiamo a vedere i pacchi piccoli, parto dal più più piccolo in assoluto, va bene, spostiamo un attimo questo, io vi ricordo che se comprate da manga io e utilizzate il codice sconto caverna avrete il 5% di sconto, ah, tatatata, allora queste sono le novel di one piece, questo è volume, volume di one piece, o one piece, tomobudo, edge one piece, il giapponese, non sei le edge, manco io sei per questo, e poi questa invece è una novel, la fabbrica dei mostri, mostri, oh, guarda che bellino, mamma mia, Nami e Robin incredibili qua, ragazzi, spettacolare, spettacolare, vediamo la copertina sotto, ragazze, vai, alla grande, questo ci rende solo felici, Perona, Perona, una delle mie preferite in assoluto, Perona e Vivi, eccola qua, o Bibi, a seconda dell'adattamento, questa si chiama Heroines, con tutte le eroine, allora direi che qua dalla copertina se toglievano Nami, a me mi facevano solo felice, Vivi, Perona, Nico Robin, trio di waifu, perfette, troppo perfette, top, e queste qua, poi andranno a formare tutte delle copertine 98, 99 e 100, metteranno insieme e formerà un solo disegno, da noi doveva già uscire, in realtà, rimandato ad agosto, io immagino che tipo sono arrivati dei pre-order assurdi a Star Comics, hanno detto ragazzi siamo nella merda, non possiamo stamparli e quindi ritardiamo tutto, ci vediamo ad agosto, dobbiamo fare i soldi ad agosto, questo invece è un manga disegnato da Posca Demizu, è scritto da Kaiushirai, gli autori di Promise at Neverland, ispirato a Coco Chanel. Ho fatto un bel acquisto, secondo me sì, io che sono un sarto mancato, insomma questa storia non potevo perdermela, guardiamo un po' la cura editoriale, va incredibile, sono dei matti, va, cioè esce a fare delle cose incredibili, la bandella promozionale è un metro da sarto, guardate, c'ha la divisione dei millimetri, va che bello, poi pieno pieno di illustrazioni, spero vivamente che lo portino anche in Italia, perché questo è veramente tanta roba, questo è proprio bello, questo è da avere, guardate qua, madonna se lo fanno in italiano così io sbavo, ma tecniche di stampa miste stupende, cioè questo non sembra manco un libro di altissima qualità, fantastico, fantastico, grazie Steve Nero per il sesto mese di abbonamento, si cresce, si sale, si sale, Andrea Armonia, prevedo che molto presto serviranno nuove librerie, è vero, vorrei tanto non fare le doppie file a queste che sono qua dietro, si si è un volume unico comunque, come al solito ragazzi vi ricordo se comprate da Mangaio e volete un cicilin di sconto, usate il codice CAVERNA per avere il 5% di sconto, qua invece abbiamo piedini vari e Hunter Hunter, queste sono le novel di Hunter Hunter, questi erano i film di Hunter Hunter, Last Mission e Curabica contro il ragno, qua, questi poi non sono canonici queste storie se non sbaglio, e poi questo di quintessential, quintu, let's, volume 1, apriamo, ah oddio potrei estendere verso l'alto chiaramente, con dei, come si chiama, con i soppalchini che mettono, quintessential piedini, le gemelline piedine, non so se voi, questa però è la full color, vedete, tutto colorato, vedete, troviamo dei piedini colorati, capiamo, trovati istantaneamente, qua subito, eh no ragazzi, questo è un manga di grande valore, storico, e da assolutamente recuperare, recuperare, questo va messo nella sezione, ehm, sex. Allora, immaginate vivere con questi cinque, muri, un anno e muri, proprio ci metti un anno e muri, non può essere diversamente, un anno, le novel di Hunter Hunter, easy peasy, questo è proprio come sempre, giusto per collezione, con i posterini all'interno, qua e là ci sono pure i frame dei film, dei film, però, infatti. Bello, bello, bello. Togliamo tutte le sovraccoferte. Ecco qua. E apriamo il paccone grande. Se me li metto da parte, così dopo facciamo vedere tutti gli acquisti nuovi. Ah, scusate, l'artbook di Hunter Hunter, dei volumi, direttamente dal Giappone. No, sono, cioè quelli che ho fatto vedere, questi qua, sono delle novel, sono dei romanzi, fatti dai film di Hunter Hunter. Apriamo l'ultimo! Invio da parte di Manga Yo, e vi ricordo come sempre, se comprate da Manga Yo, punto it, Cogge Caverna per il 5% di sconto. Io aspettavo questi da molto tempo. Panini! Non lo ristampo. Eh, siamo tutti d'accordo. Però, come vedete, qua, alle mie spalle, c'ho il plus, ma l'uno, io dall'epoca non l'ho comprato. Adesso, Manga Yo, me lo fa avere in giapponese, e sti cazzi! Lo prendiamo subito! Subito lo prendiamo! Uuuuuh! Che qualità! La bandella è... opaca. Traslucida. Bella, 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 bella. Bello. Oh, beccanone, subito, è la prima cosa che si vede di teppisti. Eh, io lo sapevo. Ma quello, tutto, Slam Dunk è roba di teppisti. È un manga di teppisti travestito da manga sportivo. Poi racconta belle cose sullo sport, sicuramente, eh. Secondo me è uno dei più bei manga sportivi in assoluto. E' un manga sportivo. Belli questi schizzi a matita. Ah, tutte le squadre. Amici impazzuto. Madonna. Ah. Fantastico. Fantastico, ragazzi! Ma questo è pazzesco! Bellissimo. Bellissimo. Questi ho tutti i messaggini, i scemini di nove. Fatti col pennarello, bello. Con la linea spessa, grossa. Bravissimo con il pennino, bravissimo anche... Questi ho... Pigment liner sono, proprio pennarelli. Bello. Ah, guardate che tecnica. Qua ha fatto un cross hatching con dei pantoni di colore diverso. Qua, guardate quanti colori ha utilizzato per fare un'ombra. Chissà il blu, il verde, il rosso, il giallo. Incredibile. Bello proprio. Non ha la padronanza degli artisti italiani, ma... se vuol dire che è un grande a utilizzare i pastelli a modo suo. Per il mondo dei manga, chiaramente. Grazie Mandorla per l'abbonamento con il Prime. Sono veramente godoriosi. Guardate, questo che è bello. Anche questo sotto il Sakura. Ops, si è lui. Troppo e mezzo. Ah, ben, ben. Rukawa col gatto. Chiaramente, con chi potrebbe stare. Pagine del manga? Ahia, quasi spoiler. Andiamo avanti, va. Che bello, mamma mia. Eh, ecco qua. Di nuovo... Di nuovo quella tecnica di mischiare. Però qua con i pantoni. Non con i pastelli. Questa è tutto pantoni. Ce l'ha sparati così. È bello. Dà pure una... Un'idea del movimento. Con questi colori. Tirati via così. Figo. Poi è tutto dipinto, invece. Bello, bello, bello. Basta, non ve lo faccio vedere tutto, perché sennò poi va a fanculo. Il CEO di Mangayao dice, se glielo fai vedere tutto, poi non zuccatene. E allora lo dovete comprare. Questo, invece, è un artbook particolare, che mi era stato proprio consigliato. Mi era stato consigliato, perché hanno detto, guardalo, questo è figo. È roba forte questo artbook. Vabbè, fatemi vedere. Capire. Soprattutto. E sono tutti i lavori di Masashi Hishiyama. Lavori animati. Vediamo, vediamo i lavori di Masashi Hishiyama. Eh, cominciamo bene. Qua tutte esizze. Vai, alla grande, ex. Un fratello? Un fratellissimo, direi. Un Cristo dal sapore agre. Domenico, sei bellissimo. Ti ringrazio. Grazie, unto. Non mi sto attendo, perché non so cosa vada ad aprire. Non penso proprio ci sia nulla di troppo sconcio. Tipo, vabbè, qua siamo nel limite. Piedini? Siamo nel limite? Siamo veramente nel limite. Perfetto. No, no, non riuscirete a fare gli screenshot. Benissimo. Hishiyama è veramente un fratello. Eh, ha lavorato bene. Uno di quelli che ci teneva tantissimo, eh. Eh, sempre poi. Capita sempre un piedino, chissà come mai. Questo è Speed Graffer, fra l'altro. Un bellissimo anime. Welcome to the NHK. Non sapevo ci avesse lavorato, vabbè. Benissimo. Un grande? Un fratello? Adesso diventa ostico sfogliare. Vabbè, comunque vedo che non c'è da pentirsene, in ogni caso. Mi era stato caldamente consigliato, in persona, anche la serie animata, caldamente consigliato dal CEO di Manga Yo. Ora so perché. Cioè, non capivo. Io comunque non l'avevo mai visto questo libro. Grazie, grazie Manga Yo. Ecco qua. Ecco qua, vai io. Un sacco di giganti. La sigla. Mi preoccupato anche della sigla. Di AOT. E di diverse altre cose piene di... Carinerie. Coccole. E cose cucciolose. Bello, poi... Sempre interessante, secondo me. Poi vedere gli storyboard delle sigle, degli anime. Sempre interessante. Ecco, pubblicità di Eva. Top. Che in questo periodo non ne ha molto, eh. Di risonanza. Di risonanza. Vabbè. Come al solito. Ve lo dovete accattà. Se no ve lo faccio vedere tutto io. Pone degli acquisti di Manga Yo. Le due novel di Hunter Hunter. Quinta essential, Queen Tuplets, Full Color. Volume degli autori di Promise and Neverland su Coco Chanel. Ragazzi, questo è la fine del mondo. Quando l'ho sfogliato ho detto, cazzo. È proprio fondamentale. Ma poi, ripeto, guardate quante tecniche di stampa diverse ci sono tra le pagine. Un volume di altissima qualità. Anche soltanto per il volume in sé. Numero 98 di One Piece. Che poi formerà il trittico insieme a 99.100. Novel di One Piece Heroines. Libro e illustrazioni di Tageiko Inoue. Dedicato a Slendank. E libro di illustrazione. Oh, qua ho sbagliato. Di Masashi Ishiyama. Dedicato a tutte le cose animate che ha realizzato. Realizzato. Novel di One Piece. 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 Novel di One Piece.